e dopo aver provato il biscotto gelato pandistelle è il momento di provare il cono pandistelle i biscotti invito a recuperare il video precedente che ho già pubblicato con la mia reaction in tempo reale adesso proviamo il cono e vediamo se almeno questo vale la pena spacchettiamo come dicevo io adoro i pandistelle biscotti però tutti i prodotti a base pandistelle mi hanno un po deluso allora cono si mostra queste dimensioni non è grande ma neanche piccolissimo diciamo classiche porzioni di questi nuovi gelati che fanno stessa dimensione spacchettiamo vediamo come si mostra allora è un tipo un cornetto algita con un pan di stelle schiaffato su la cialda sembra al cacao l'odore c'è sembra c'è praticamente uguale al biscotto c'è anche il biscotto gelato c'è il pandistelle la crema sembra la stessa per poi sempre la cialda passiamo all'assaggio anche in questo caso il biscotto copre il sapore della crema che abbastanza insapore non sa così di nulla vediamo se la cialda vale la pena molto croccante buona però secondo me non vale la pena grazie